ciao ragazzi benvenuti a questa nuova sezione delle mie lezioni che non saranno lezioni ma solo consigli nei quali vi mostrerò come non fare un setup al bus che come vedete i miei bassi sono molto tenuti bene perfetti scherzi a parte dopo tante richieste ricevute voglio mostrarvi passo passo insieme ad una guida che sto facendo scritta tutto quello che so riguardo alla manutenzione e a qualche modifica qualche personalizzazione di un bus elettrico vedremo sia fretless che con i tasti quindi setup cambio corde cambio pick up cambio manici cambio tutto e vi aspetto cercherò di spiegarmi nel mio piccolo come sempre ovviamente senza voler far passare il messaggio che io sia un giro di utai o un giro a me perché non lo sono lo premetto ho solo tanta esperienza anche questo campo diciamo sono divertito da rompere di tutto dopo aver rotto di tutto qualcosina imparato quindi cercherò di darvi qualche consiglio non me ne vogliano gli utai però qualche cosa a volte si può fare da noi senza dover più forza ricorrere a un professionista del settore quindi ora riceverò una marea di insulti però mi avventuro in questa nuova avventura bellissimo e vi aspetto quindi alla prima puntata di questa nuova serie del mio canale e e e e e e e e